Il consigliere Severini ha la parola. Grazie Presidente. Io mi trovo a chiedere dei chiarimenti in aula, visto che oggi è il giorno del pagamento della Tari, ma a chiedere delucidazioni all'assessore su quanto comunicato in data 15 marzo, ossia sullo slittamento della prima rata della Tari al 31 luglio, visto che questo ha creato confusione comunque, in quanto tutti gli organi di stampa hanno riportato il virgolettato dell'assessore che a seguito del Consiglio Comunale e di una giunta spostava, prorogava la prima scadenza della rata della Tari al 31 luglio, io ho cercato nel sistema Urbi, con molta difficoltà perché molti documenti non si trovano nel sistema, ho cercato di trovare la delibera di giunta, ma non l'ho trovata. Ho trovato la delibera di Consiglio che avevamo votato noi e riportava correttamente la data del 30 giugno. Quindi, visto questo caos che si è creato e questa confusione tra la popolazione, non capisco come mai questi bollettini continuano ad arrivare in ritardo, nonostante queste date sono prefissate da tempo. L'altro anno il problema era il Covid, quest'anno non so se la pandemia in un anno ancora non ha messo in moto gli uffici per consegnare in tempo questi bollettini. Comunque, la cosa importante è capire se oggi questa Tari va pagata e se sono sbagliate le sue dichiarazioni del 15 marzo oppure cosa è successo in merito a tale dato. Grazie.